E' pronto? Leonardo, vieni che si fretta. Staccati un attimo da quegli appunti. Arrivo, Tommasino, arrivo. Sei sempre con la testa tra le nuvole, ma con la pancia vuota non si può pensare. Magari, come vorrei stare con la testa tra le nuvole? Cosa c'è da mangiare? Pollo, pollo arrosto. Dammi le ali, Tommasino. Ma che ali e ali, Leonardo? Leonardo, prendi il petto. Alle ali non ci ha attaccato niente. Sono piccole e piene di orsa. Ma sei un genio, Tommasino. Ora capito perché i polli e anche gli uomini non possono volare. Perché sono grossi. Sono troppo grossi per volare. Hanno il becco sviluppato e anche le due cosce. E si sono abituati a beccare la terra. Quindi le ali non sviluppate sono rimaste piccole e non potranno mai volare. Ma alla fine il pollo si mangia. Certo che si mangia. Certo e mangiato. Grazie. 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 Grazie.